Già Luca Pini, qual è la posizione della Lega Nord sulle missioni italiane all'estero? Andrebbe fatta una programmazione che non c'è in questo decreto, effettivamente è un decreto di spesa che copre solo tre mesi, una cosa minimale che non affronta quello che dovrebbe essere una visione strategica di quelli che sono gli impieghi dei militari sugli scenari internazionali. Ce ne sono alcuni che andrebbero chiusi definitivamente, anche perché sono pericolosi, vediamo il Libano, e quelle forze lì magari impiegate e dislocate per bloccare i flussi di clandestini, non di migranti ma di clandestini che arrivano dalle coste libiche. Perché utilizzare i soldati nelle operazioni che riguardano le nostre coste? Perché è l'unica risorsa che in questo momento possiamo dislocare, perché hanno una elevatissima professionalità, contrariamente a quello che si dice solitamente, queste persone che vanno all'estero sono addistratissimi per svolgere ruoli molto delicati e non è un mistero che soprattutto determinati corpi, tipo il Tuscania, siano considerati addirittura migliori rispetto a corpi ben noti di contingenti che possono essere americani perché sanno trattare con le popolazioni, sanno essere duri, ma sanno trattare anche con le popolazioni. Non è solo un fatto di farsi voler bene, ma è un fatto di farsi intendere e quindi spiegare che non è quella la strada per poter arrivare all'interno dell'Europa. Ci sono percorsi legali che devono essere intrapresi se uno scappa da scenari di guerra, vengono tutelati, quelli che possono ottenere lo status di rifugiato e andare ad ingrassare quella che è la mafia e quelli che sono i trafficanti di uomini non è la strada giusta. Ci sono anche diverse missioni che hanno soltanto due o tre uomini impegnati, diverse missioni che forse dovrebbero venire a essere chiuse. Le cosiddette missioni balneari tipo quella di Cipro, noi ne abbiamo chiesto la chiusura, abbiamo quattro persone lì che ci costano centinaia e centinaia di migliaia di euro, non si capisce bene che cosa stiano facendo o come il rappresentante al confine turco-siriano, come se un rappresentante diplomatico che ci costa 250 mila euro potesse in qualche modo risolvere la crisi siriana. La crisi siriana mi sembra che la stia risolvendo il buon senso soprattutto di quelle nazioni tipo la Russia sulla quale in un tempo magari non si faceva molto affidamento ma che diventando centrale nello scacchiere geopolitico di queste situazioni qui invece probabilmente è riuscita al momento a evitare una pericolosa escalation di violenza nello scenario siriano.